ma dove sono le bambine ehi ragazzi ciao a tutti ma la vanessa dov'è? è sotto ancora nascosta? si allora ciao ragazzi io sono erika e lei è la mia sorella vanessa dov'è? eccolo ehi ma non possiamo mica urlare perché? perché sono le tre di notte abbiamo i vicini che penso che quest'ora stanno tormento si ma guardate cosa abbiamo qua un splime non si dice splime si dice slime eh si guardate cosa fai lo faremo oggi alle tre di notte e qua c'è qualcosa dai aprite 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 ci riesce aiuta la vanessa aiuta aiuta dai 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 wow si è trasformata la vanessa ragazzi abbiamo intenzione di fare lo slime del doctor cranio come vedete qua cosa state facendo? guardate c'è tre di notte stanchissime ma non direi che sono stanche sono trasformate in due ragnatele fammi vedere fammi vedere la tua faccia 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 wow ma mi fa paura guarda la faccia di vanessa oggi ci divertiremo allora speriamo che faremo lo slime più spaventoso che l'abbiamo mai fatto prepariamo tutto ecco qua il cranio adesso devo prendere gli adesivi fatemi vedere gli adesivi quali adesivi ci sono wow guardate come gira qua dentro metteremo lo slime guardate c'è tutto la pinzetta il cucchiavino il glitter il glitter i pimenti io comincio manessa vai vai a prendere gli adesivi vai 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 ancora sono sporcato per finta ci riuscite a prendere gli adesivi? si dove lo vuoi mettere? di nuovo si è sporcato questo cranio malefico wow vedete qua? si gira io metto l'altro io metto un topo gigante c'è la colla, l'attivatore, i baratolini e ragazzi vi faccio vedere una cosa sono i animaletti schifosi che li dovremmo mettere dentro lo slime Erika prendi la colla trasparente questa? e questa la colla quello è l'attivatore questa è la colla e questa qua dentro dovrai mettere 30 ml e dopo Vanessa farai tu ok? prima fa la Erika e dopo fai tu lo slime vediamo quando saranno 30 ml metti 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 stop vediamo ci sono 30 poco 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 ancora un po' cioè ma parliamo poco poco stop super dovrai mettere la colla qui dentro va bene aspetta ecco qua wow non vedo l'ora di vedere il risultato adesso dobbiamo mescolare no 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 non si mescola dobbiamo mettere 10 ml di attivatore sarà questo metti 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 ancora un po' stop brava wow da qui l'altra parte amore wow guarda 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 diventa lo slime e poi mettiamo il colore si amore dai 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 anch'io dovrai mescolare per circa 5 minuti anch'io voglio mescolare adesso ho la vanessa vieni vanessa vieni 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 dai veloce 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 vieni però vieni qua devi mescolare amore devi mescolare veloce mescola mescola che questo è il mio slime però da quell'altra parte amore va bene va bene anche così mescola mescola fare un strano rumore mescola mescola guardate come gira il franio brava aggiungi un colore qua c'è il rosso nero se non mi sbaglio io voglio questo io voglio questo colore agento metti una goccina tieni il schienino e metti dentro lo slime non ci riesco voglio questo colore si ok va bene così metti lì dentro mescola puoi aggiungere anche il glitter che ha un effetto scendillante se vuoi va bene e tu vanessa lo metto tutto lo metto tutto lo metto tutto lo metto tutto lo metti solo un po' non tanto si prenda ecco wow chiudi bene guarda che vanessa adesso ti prende un animaletto voglio 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 la lucertola mi prendo io vecchini ti aiuta amore dammi aspettate wow ma cosa c'è un serpente una ragnatela una lucertola e anche un scappaggio mescola 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 uno due tre mescola 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 uno due come lo slime vediamo vediamolo a me sembra che è un po' più duretto questo slime vanessa prova a fare tu lo slime ok dai hai messo il colore che colore che colore colore nero cosa ti piace dopo facciamo un altro ecco adesso con le mani erika hai visto la vanessa metti sul tavolo basta 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 è troppo hai messo troppo no wow cosa hai fatto vanessa mescola anche un po' no è mia è mia è mia ragazze wow ma brilla veramente tanto fammelo vedere vanessa wow che animale hai messo dentro lucetola lucetola si ok ragazzi voglio fare uno slime verde e dopo erika mi ha detto che vuole mettere dentro tutti questi animaletti che paura nooo metto dentro la colla brava cosa hai fatto ho fatto una magia una magia alle 3 di notte una magia ecco cosa hai messo lì dentro l'inchevatore ok messo adesso vediamo dai vai tira fuori è già pronto ecco tiriamo fuori la mano vediamo posso tocare cosa dici amare posso tocare posso tocare posso tocare si tocca si tocca è molto piccicoso è molto piccicoso è molto 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 piccicoso prendi il vaso e devo mettere un colore hai detto che vuoi il colore verde te lo metto io tu hai le mani tutte appiccicate lì dentro stop fermati mescola adesso con le mani com'è com'è lo slime boh ma anche io voglio questo e ti vuole mettere anche i brigantini anch'io va bene anch'io voglio anche a te anch'io dai mescola amare mescolate tutte e due qua abbiamo messo dentro lo slime di Erika e tutti questi animaletti li dovrei mettere dentro si ma dobbiamo fare uno slime ho un'altra idea ho un'altra idea ragazzi a casa cosa ne dite di fare un slime grande 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 si più grande che l'abbiamo mai fatto si 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 vuoi? e dentro mettiamo tutte le cose brutte gli animaletti ragnatele nere grandi possiamo mettere anche questi se tu non li vuoi mettere là nel tuo slime si wow quello di Vanessa ah no attenzione attenzione cosa state combinando wow dove l'hai messo? cosa stai facendo? oh no cosa state combinando qua? ragazzi guardate questi 3 slime allora vediamo il tuo bello pauroso oh che colore strano io ti faccio vedere il mio ci riesci? a toglierlo anche il tuo ha un bel colore questo e questo mi piace di più è un verde mamma mamma facciamo facciamo co 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 dai no non le mescoliamo insieme ok adesso è mescolato ecco bravi ragazzi scrivetelo gi nei commenti quale slime vi ha teciuto di più questo 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 salute salute facciamo silenzio ragazzi silenzio sono 3 di notte adesso ragazzi facciamo un slime grande grande basta 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 così ecco così ecco ce l'ha un bambino cosa? e ce l'ha un bambino dentro mettiamo anche attivatore allora metti questo po' non ho messo tanto ok wow che schifo lo prendo io ok ok vanessa cominci a mescolare ok mescola bene e poi io mescolo certo poco alla volta dovete mescolare bene 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 se serve ancora attivatore ve lo do ok dentro ragazzi ci vogliamo mettere tutti questi i maletti guardateli serpente rana tela che schifo cosa? metti dentro dai dai intanto prendi a me adesso mescolare ok basta mescola aspetta c'è un po' c'è un po' c'è un pochino di non è è mister rosa l'ha portato mister rosa no dai ragazzi si dovete fare silenzio anche mister rosa fa le nane eh anche lui fa se fa le nane non sappiamo se fa le nane mister rosa ecco qua il vostro colore azzurro ok faccio faccio meglio se lo metto io no lo metto io io mescolo con le mani dai mescolate tutte e due anch'io facciamola ora così Vanessa devo fare un'altra slide per te ok così brava wow che bel colore Erika veramente è un bel colore così ho preparato un po' di cosine il glister oh oh eh tieni 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 metta lì dentro metta lì dentro metta lì dentro no non voglio mettere dentro sicura no sicura allora non vogliamo mettere i bisetti ho finito ho finito si ecco ti metto il pepenta un po' di rosa mescola bene dai 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 eール allora questo è di vanessa lo taglio e anche questo è di vanessa e dentro ha tutti i animaletti guardateli wow c'è dentro il serpente e tu cos'hai dentro due ragnatelle o questi di vanessa scrivetelo oggi nei commenti ok ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere tagli van fatelo ciao 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 vi mandiamo tantissimi coricini e boccini si tutti molto molto carini adesso si va a dormire subito si 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 va a dormire lo sai non l'avete fatto la sfida è finita e si va a dormire no no cosa è quella cosa ha dentro la non certo